Bar Cinema Edicola Tabacchi Oggettistica Bolivar Tutto questo è a Marina di Camerota in un ambiente accogliente e cordiale puoi degustare prodotti da par per un'ottima colazione pasticceria siciliana torte gelato per ogni ricorrenza oppure intrattenerti al punto edicola e visitare l'angolo oggettistica per ogni idea regalo souvenir, bigiotteria, ceramiche ma al Bar Cinema Bolivar sono tanti i servizi di cui usufruire ricariche telefoniche, tabaccheria gratte vinci, fotocopie e fax in un ambiente climatizzato puoi trascorrere un piacevole pomeriggio nella sala cinema con le migliori prime visioni per grandi e piccini vieni a visitarci e prenota il tuo prossimo posto in prima fila al Bar Cinema Bolivar a Marina di Camerota telefono 0974 93 22 79